Una riqualificazione attesa da molti anni, destinata a stravolgere in positivo il volto del quartiere Madonna dei Martiri, restituendo ai suoi abitanti l'orgoglio di appartenenza ad una delle zone periferiche storicamente più complicate e al contempo caratteristiche di Molfetta. Il progetto del corposo restyling è ben noto da tempo, restituire dignità e bellezza al waterfront, da Torre Calderina a tutto il viale dei Cruciati e fino alla secca dei pali, senza tralasciare i lavori di rifacimento del sagrato della Basilica e quelli legati al sistema idrico e fognario dell'intero quartiere già completati. La costa di Ponente sarà dunque collegata al borgo, creando le condizioni per un lungomare a ridosso della costa, percorribile a piedi o in bicicletta, a favore dei cittadini e turisti. L'intervento per il quale è stato previsto un importo complessivo di oltre 2 milioni di euro rientra in un articolato progetto di pianificazione strategica è decollato su impulso dell'amministrazione Minervini. Quello, come dire, lo stiamo riportando a nuova vita. Un quartiere che comincia dalla Torre Calderina, che è una torre vicino al vecchio porto di Molfetta a Cala San Giacomo. Via via sta venendo qui, verso il centro della città e questa grande piazza che inaugureremo il 6 settembre, dedicandola alla Madonna dei Martiri, con una riqualificazione che continua la secca dei pali e praticamente una zona della città, come dire, che era considerata degradata e periferica. Adesso ritengo che sarà proprio un cuore pulsante. Tra le opere previste, anche la forestazione di una vasta area con 300 nuove piante. Ci sono 300 piante che stiamo piantando per una implementazione del verde. Abbiamo avuto un progetto finanziato. Sono 300 piante che stanno tra la Basilica e il nuovo porto. A, come dire, fare una quinta scenografica fra questi due mondi, quello della religiosità della Basilica e il porto commerciale. Ci sarà questa grande foresta, appunto, di 300 querce che, credo, quando sarà, come dire, in stato avanzato sarà un bello spettacolo a vedere.